Controllo in zona industriale a Santa Giustina in Colle della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese. All'interno di una stireria gli agenti hanno trovato una serie di alloggi costruiti abusivamente creati con pannelli di cartongesso. Le stanze così ricavate dalle dimensioni anguste erano in condizioni igieniche precarie. All'interno di una di queste è stato scoperto, nascosto sotto le coperte, un cittadino cinese di 53 anni privo di documenti. Dai successivi controlli è emerso che lo straniero era anche sprovvisto del permesso di soggiorno e quindi clandestino. A carico della titolare della ditta è stata accertata una violazione del regolamento di polizia urbana di 500 euro per aver destinato all'uso abitativo locali non idonei con l'obbligo di ripristinare l'originale destinazione degli stessi entro 48 ore. Accertamenti sono ancora in corso per verificare se il clandestino fosse anche impiegato nelle attività lavorative dell'azienda.